Giuseppe Garibaldi esprime delusione per l'uscita dal Grande Fratello. Ascolta cosa ha dichiarato. Ma prima di svelarti cosa ha dichiarato Giuseppe Garibaldi dopo la sua eliminazione, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie per il supporto. Giuseppe Garibaldi, uno dei concorrenti più rappresentativi del Grande Fratello 2024, ha espresso la sua delusione per non essere riuscito ad accedere alla fase finale del gioco durante la semifinale del 21 marzo. L'eliminazione è avvenuta a un passo dalla finalissima, determinata dal televoto. In un video postato sui social immediatamente dopo la sua uscita dalla casa, Garibaldi ha ringraziato quanti lo hanno sostenuto e ha ammesso di aver sperato di arrivare fino alla fine del programma. Nonostante la delusione per non essere riuscito a classificarsi tra i primi cinque finalisti, Garibaldi ha sottolineato che per lui è comunque una vittoria di essere arrivato fino a quel punto e ha espresso gratitudine nei confronti del Grande Fratello. Anche il conduttore Alfonso Signorini ha manifestato il suo dispiacere per l'uscita di Garibaldi dal gioco, dichiarando di aver sperato che arrivasse in finale. Signorini ha elogiato Garibaldi come persona speciale e ha espresso il suo sostegno, affermando che lo avrebbe scelto nuovamente come concorrente senza esitazione. Nonostante le circostanze, Signorini ha cercato di consolare Garibaldi sottolineando che avrebbe potuto godersi un aperitivo con Rebecca, offrendo un momento di leggerezza dopo la delusione della sconfitta.